Ciao, ti porto il saluto della Sala, che ti guarda a grande schermo. Sala, ti senti? Sì, sì, sento, sento, benissimo. Dico subito che è un po' strano entrare così, non aver seguito il film, il finale di solito, rispondere, incontrare il pubblico dopo aver anche guardato la fine del film è un po' più facile. Ero qua che cercavo di ammazzare il tempo aspettando la telefonata, quindi spero di non essere di legno, ecco. Sei fredda? Dai, ti riscaldiamo noi adesso. Sì, tutto il contrario. Esatto. Io non so, io direi di, se c'è qualche domanda, iniziamo subito a fare domande a lei direttamente, è inutile che le faccia io, io lo conosco talmente bene il film, tra l'altro sono anche molti particolari del film. Inizio io? Ok, allora io volevo chiedere una cosa che in realtà a Giorgio non ho mai chiesto. So che tu sei stata quella che ha individuato Eva, che ha trovato Eva per la prima volta, io volevo capire da te qual è stato il momento o la cosa che hai notato o il momento che hai deciso di, ok, voglio raccontare questa storia, Eva mi piace, voglio inseguire questa storia, voglio inseguire lei, perché comunque l'ha inseguita. Quindi mi chiedevo se ci fosse stato un momento, se ti ricordi un momento in cui hai letto il blog e hai detto, ok, questa cosa ti ha convinto nel buttarti in questa avventura. Ovviamente no, no, non è stato un momento, niente in questo film è stato un momento, a parte, come dire, la fascinazione iniziale devo dire è stata ossessiva, ecco direi, quindi all'inizio quando ho scoperto il blog di Eva, che oggi è Adam, non riuscivo più a smettere di leggerlo e quindi mi sono poi posta delle domande, insomma l'ho condiviso con Pia per capire da lei se appunto se ci fosse materiale per lavorare oppure se fosse solo la mia ossessione personale, no? Quindi in questo confronto con Pia mi sono un attimo, non chiarita le idee però perché lei comunque mi ha risposto sì, ci sono, una settimana dopo era anche lei completamente ossessionata, ma non sapevamo spiegarci il perché, avevamo capito che c'era qualcosa in questa persona che ci incuriosiva, ci intrigava, c'erano contraddizioni e c'erano elementi così contemporanei da essere anche per noi veramente nuovi, ecco, curiosità, capire, proprio una cosa molto semplice, cercare di toccare, cioè, toccare, capire cos'è. C'è qualche domanda? No, vado io, ok. Dato che tu sei la sceneggiatrice executive, direttore artistico del film, ti chiedevo, dato che appunto, come dicevi, Eva è un personaggio molto particolare, anche un'individualità molto forte, quanto è stato difficile lavorare sul testo e riuscire comunque in ogni caso a mettere dentro una voce come la tua che poteva essere quella da sceneggiatrice e narratrice in ogni caso del film? Comunque l'individualità di Eva è predominante in tutto il suo essere. Ma allora, immaginati che c'erano tipo dieci anni di blog, scritto tutti i giorni, in più post, quindi c'è stato il primo processo di selezione, è stato proprio brutale, cioè, cosa mi attira e cosa no, ma poi abbiamo fatto assieme, io e Pia, tutto questo, ma poi avvicinandoci sempre di più al, diciamo, al montaggio, perché mentre giravamo il blog non era, cioè, il blog era uno strumento per noi per vedere cosa, per leggere cosa lei stesse facendo in quel momento, no, quindi molto prezioso per poi, insomma, sentirle dire, che ne dici se passiamo, se siamo qualche giorno con te, ma poi, diciamo che abbiamo girato e ci siamo quasi dimenticate, insomma, mentre giravamo. Poi, ovviamente nel montaggio, là è stato molto difficile perché, di nuovo, il processo di, come dire, di selezione è un'interpretazione ed è un, si dà una chiave, no, molto, molto forte alla storia di qualcun altro, quindi un elemento narrativo fondamentale in questo film perché, comunque, sì, cioè, è uno dei pochi elementi che hai per capire un po' di più, insomma, che, insomma, noi non volevamo che Eva fosse capita, ecco, questo sicuramente no, però, per questo, appunto, la selezione del blog non è stata, lineare, non è stata, non lo so come dirti, per argomenti, abbiamo fatto dei cluster di topics che ci sembravano, ci sembrava potessero essere interessanti in combinazione con il footage, diciamo, e poi da lì la selezione è sempre più precisa. In questo senso, l'apporto di Eva nella scelta anche dei topic, degli argomenti da trattare, è stato importante o sulla fase di post-produzione, in realtà, insieme a P avete... No, Eva, cioè, no, no, Eva non è mai intervenuta nel contenuto in nessun momento, a parte, ovviamente, dicendoci quando potevamo andare a girare e quando non era il caso, quindi, insomma, in maniera forte comunque, però, non ha mai domandato che cosa stessimo facendo, non ha mai voluto sapere, secondo me, ancora quei tempi per paura che non le piacesse, che fosse, tipo, troppo tardi per dire basta, quindi si è affidata, si è voluta affidare, poi, insomma, per fortuna il film è piaciuto, però lei non ha mai, cioè, non sapeva cosa stessimo facendo, quindi noi abbiamo lavorato alle sue spalle, sperando che, come dire, ci si ritrovasse nel non ritrovarci, sì, cioè, non volevamo parlare della sua storia, quindi, e lei era terrorizzata che noi l'avremmo fatto, quindi, alla fine era contenta, insomma, che non... di come l'abbiamo rappresentata, e questo è stato, insomma, per me, personalmente, la cosa più importante. Ok. Allora, ho una domanda io, mi senti, Giorgia? Sì, senti tutto. Ciao, sono Monica, ci siamo scritte prima su Skype. La domanda è questa, quanto siete stati fedeli a Eva? Qual è lo scarto fra l'immagine che Eva dà di sé e l'immagine che voi avete dato di lei? La fedeltà a lei, ad Eva, non era uno dei nostri, cioè, la cosa che ci importava era liberare il personaggio dal nostro giudizio, o comunque, in generale, dal giudizio. Chi fosse lei dietro a tutto questo non era importante, cioè, era proprio un punto per noi che questo non dovesse succedere, insomma. non devi capire lei alla fine, o comunque non devi capire, insomma, non è fondamentale, non è uno dei nostri obiettivi, ognuno si fa comunque la propria idea, no? E questo è uno dei punti, come dire, concettuali che ci interessava indagare, il fatto che lei diventi proprio un muro di proiezione, no? Per ognuno di qualcosa di differente, almeno questa è stata la nostra esperienza. Quindi, non ti so rispondere esattamente, cioè, comunque, fare un documentario, passare del tempo con qualcun altro, con una telecamera accesa, ecco, ovviamente cambia, cambia in qualche modo il contesto di per sé, quindi, insomma, puoi capire cosa è diverso, cosa no, io non te lo so dire. Ok, grazie. C'è qualcuno che nel frattempo ha qualche domanda, qualche curiosità? Sì, sullo schermo, fatemi un po'. Eh sì, no, è che all'inizio ovviamente si è un po' timidi, resti a esporsi, però vi incoraggio a farlo prima. Vediamo un po', no, sembra, sì, c'è qualcuno che, ma non si espongono. Niente? Niente, 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 ancora no. Se scrivete poi da me, mi arrabbio, certo. E poi di solito succede così, quando si chiude la chiacchiera, poi dopo arrivano le domande. Instagram di solito. Ecco, ecco, a furia di stimolarli è arrivata. Aspetta che ti porto il microfono, se no non ti può sentire. Ciao. Ciao. Ero curiosa rispetto al fatto che sia un documentario, però quello che mi ha sorpreso è che ci sono anche tanti momenti che invece sembra proprio un film. E credo che sia proprio voluto. Se volevi dire qualcosa rispetto a questa cosa qui. Grazie per la domanda. Guarda, sì, noi abbiamo lavorato sulla rappresentazione, quindi perché il nostro personaggio è, come dire, è chiave come concetto per capire il contesto in cui lei poi, in cui l'abbiamo scoperto, in cui lei si rappresentava, che era una delle cose che volevamo indagare. Quindi, ovviamente, mettere in scena è parte del concetto ed è stato divertente, devo dire. Non c'era grande pensiero intellettuale dietro quegli shot, come dire, preparati. Era, la sua vita, devo dire, incredibilmente filmica. Cioè, sembra, invece così, a parte che lei è molto fotogenica, quindi dove la metti diventa un'inquadratura. Non so come dire. Adesso sta girando un film fiction che è qui in Germania, per cui è stata scritturata dopo che hanno visto il nostro film. Quindi, è questa, come dire, questa bellezza che può stare ovunque ed è, non lo so, incarna, come dire, appunto questo muro di proiezione per noi è stato e pensiamo che sia in generale. Quindi, sì, la rappresentazione e il giocare con la rappresentazione era ovviamente una delle cose che volevamo fare. Se non ci sono, ci sono altre domande? Sì, e via. Poi arrivano a grappolo improvvisamente a tutte. Ecco qua. Ciao, Giorgia, sono Federica. Ciao. No, volevo sapere come è stata pensata in realtà la musica, che trovo molto interessante, perché a volte l'ho proprio trovata la sostituzione dei dialoghi, in un certo modo. E quindi, non come colonna sonora, ma proprio come, non saprei, forse saprei spiegarmelo meglio tu, perché l'ho trovato molto curioso, molto interessante, anche molto profondo, messa proprio nel punto, diciamo esatto, della narrazione. Sì, grazie, perché penso che la musica in questo film sia una delle parti più interessanti. Allora, innanzitutto è stata una scelta di regia, quindi Pia è stata quella che ha definito i mood e quello che stava cercando per quali scene. Da lì abbiamo, come dire, fatto brainstorming, abbiamo cercato nei nostri archivi personali e di, come dire, immaginario. Credo che lei cercasse qualcosa che appunto fosse un elemento chiave anche comunque della scena, che non fosse solo un sottofondo, insomma, un sottolineare, un mood, proprio un altro elemento magari contrastante, però che comunque aggiungesse qualcosa a livello di significato. Quindi, e poi da lì, da lì devo dire, il cosa mettere dove è stato, lì è il talento, secondo me. Quindi in questo caso credo che Pia sia assolutamente talentuosa, insomma, sia stata assolutamente talentuosa in questa fase in generale. È una delle cose che fa meglio, secondo me, questa della musica. Quindi, sì, io sono felice perché per me era molto importante. Ho messo alcune cose dentro che mi fanno a cuore e mi soddisfa. Ci sono altre domande? Ne faccio un'altra io. Allora, io avrei quest'altra domanda e non so se riuscirò a farla bene perché in realtà forse è un po' confusa ancora nella mia testa. Però è questo, in sostanza. Spesso quando in un film documentario, fra virgolette, ci si avvicina in maniera molto intima a una persona, il regista, la regista, deve ovviamente, gli autori, insomma, devono conquistarsi in qualche modo la fiducia per riuscire a, soprattutto, a fare sì che non ci sia troppa affettazione di fronte alla camera, eccetera, eccetera. Però il punto è che Eva è già una persona che lascia che in qualche modo tutto il mondo possa avvicinarsi in maniera intima a lei. Ma io penso, almeno quello che ho percepito io dal film, è che in realtà fra voi c'è stata una complicità, c'è stata un'intimità in qualche modo preparata per arrivare al film. È così o semplicemente lei si è aperta, come siete arrivati, insomma, a convincerla a fare il film e come, secondo te, lei si è posta di fronte alla vostra camera, se appunto con fiducia, se siete entrati in un rapporto di fiducia e come? Sì, dunque, sicuramente siamo partite avvantaggiate dal fatto che lei, appunto, si riprendesse in continuazione, quindi non avesse alcun tipo di inibizione di fronte alla telecamera. Noi l'abbiamo seguita per due anni, non tutto il tempo, ovviamente, quando potevamo, da sole, solo io e Pia, girando io e facendo il suono Pia, e così, passando delle ore assieme, parlando, essenzialmente la lasciavamo parlare, e queste sono state fasi di assestamento, secondo me, anche per capire per noi che cosa stavamo cercando e per lei per buttare fuori tutto quello che doveva buttare fuori, perché comunque, insomma, a quei tempi soprattutto era, e penso anche per un attimo, per, come dire, allentare la tensione emotiva di stare davanti alla telecamera, davanti a due sconosciute, parlare, parlare tutto il tempo. Ecco, erano cose, erano tutte cose che lui leggevamo anche sul blog, ma insomma, sentire e le raccontare da lei era, già, era tipo estasi, anche se quel footage non c'entra niente, come dire, con quello che c'è adesso nel film, no? Però è stato un periodo di, come dire, mettere il proprio tempo dentro una cosa in cui credi e che ti sembra che, insomma, che valga la piena essere, come dire, portata avanti. Lì, da lì in poi, secondo me, è stata una questione appunto di fiducia, ma anche di fare delle cose assieme, quindi facendo cose assieme ci si poi conosce e ci si avvicina. Quindi viaggiare per girare ad Atene o in Messico, o anche poi quando stavamo qua, però comunque fare delle, insomma, condividere delle esperienze ha aiutato ad avvicinarci, ma in generale, lei non è, non è mai, a parte il momento iniziale in cui parlava tutto il tempo, non è mai, non è mai cambiata la sua distanza con la telecamera, no? Certamente si è lasciata andare, ma comunque, come dire, diciamo, la cosa più importante è che ha dato accesso ai suoi amici, alle persone che le stavano vicino, questo penso che lei abbia voluto prima conoscerci per capire chi fossimo e che argomenti, come dire, avessimo e poi ci ha dato fiducia al verso il suo mondo, ecco, più che per se stessa, perché penso sia abbastanza corazzata. Chiarissimo, grazie. Grazie a te. Qualche altra domanda? Francesco, ti ripasso il microfono, magari vuoi aggiungere qualcosa, conoscendo appunto meglio il film? Non lo so, in realtà non tantissimo, in realtà a me è una cosa che mi ha affascinato fin dall'inizio del film, oltre alla musica appunto, anche i silenzi, cioè il film, anche se non ci sono tanti spazi dove c'è un silenzio, però in alcuni momenti, soprattutto, c'è questo stacco tra un pezzo musicale e una vicenda, poi arriva il suono diagetico e mi sono sempre chiesto, ma anche, poi spesso è anche fatto un po' di ambient, no? Ci puoi entrare l'ambiente, era anche un silenzio che comunque parlava da un punto di vista sonoro. Mi chiedevo appunto con il sound designer, siccome il film comunque ha un sound designer notevole, volevo capire insieme al ragazzo che ha fatto il sound designer come vi siete approcciati, come avete concepito il film da quel punto di vista là. Guarda, il ragazzo che ha fatto il sound designer, Marcus, ha anche fatto le registrazioni, come dire, su campo, ecco, quindi era con noi, quindi ha preso tutto il suono che gli serviva per fare quello che avrebbe forse, aveva già in mente di fare, ma non credo in maniera poi comunque chiara, e poi ha lavorato con Pia in post-produzione, io non c'ero in quella fase, non ti so dire, però so che Pia è molto determinata in quello che vuole, Marcus è molto talentuoso e ha delle idee che sono un po' più pazze, quindi sicuramente lui ha messo lo zampino dove è riuscito, lei gli avrà tagliato due robe, immagino, come dire, una situazione del genere, però sì, entrambi, sia Pia che Marcus comunque, di certo avere un orecchio, come dire, di talento, insomma, verso la musica, come si può dire, un orecchio allenato, un orecchio che riconosce quello che è bello e quello che no, ecco, e questo fine, insomma. Anche perché non sono tanti film che giocano così tanto con il silenzio e con l'ambiente, i documentari generalmente fanno un uso dell'ambiente e del silenzio, sempre molto funzionale a quello che poi sarà il messaggio finale, perché ti riescono a trasmettere proprio i luoghi, soprattutto nel finale, io penso che il finale sia uno dei momenti più belli del film, quando c'è la ragazza che è sulla bici e poi passano le varie esperienze in voiceover e poi c'è un altro ambiente e poi si arriva prima con il silenzio, poi entra il sonoro ambientale e poi arriva la voce della testimonianza, mi è sembrato un uso molto evocativo del silenzio e dell'ambiente. Eh sì, hai fatto un gran lavoro lì, sì. Io non ho tante altre domande, ne abbiamo parlato talmente tante, tanto, quindi non so, se avete qualche altra curiosità su Eva è il momento giusto. Tipo, non so, è tutto girato dal vero? Classica domanda, no? No? È tutto girato dal vero? Cosa vuol dire? Sto scherzando, è una battuta. Non lo so, io non ho altre domande. Solo una cosa su questo, è già un tema abbastanza forte nel film, che è quello del rapporto con l'Italia. L'Italia sembra un po' la bestia nera, no? Che in qualche modo rappresenta i peggio stereotipi di una cultura ancora fortemente patriarcale, dominata ancora da un cattolicesimo sbagliato, eccetera, eccetera. È qualche cosa che è molto forte di per sé in generale nella figura che dà di sé Eva o l'avete scelto voi di farlo emergere in particolare? Beh, allora, essendo sia io che lei, come dire, emigrate, e ovviamente essendo lontano da casa si vedono di più le cose, no? Come dire, le storture. Non che, come dire, non che in Germania non ci siano, ce ne sono altre, ma insomma. No, però, per noi è stato un elemento narrativo utile essenzialmente per raccontare un elemento che era l'infanzia di Eva, che è cresciuta in un ambiente fortemente cattolico, e era utile perché anche, come dire, ritornando a casa poteva, come dire, ritrovare dei temi. Noi, quella parte, diciamo, sulla ragazza scomparsa era effettivamente registrato, abbiamo dovuto poi cambiare, insomma, era chi l'ha visto, poi noi abbiamo dovuto registrarlo, non chi l'ha visto, insomma, ha fatto da noi, però abbiamo cambiato i nomi, ma c'era davvero l'audio di una ragazza che era scomparsa e che poi non è mai più tornata, insomma, e questo era un tema di femminicidio, insomma, non è così grave in Germania, dove, insomma, in tanti altri posti, ma insomma, come in Italia, e per noi è un elemento, insomma, un elemento chiave della nostra identità, per me e per Eva, senz'altro, per Pia sicuramente di contrasto. Insomma, ovviamente ci sono altre cose che si sarebbero potute dire, però lei, per lei, nella sua formazione è stato un elemento chiave essere in Italia, credo, ma come dire, come dimostrare il contrario, ecco. Certo, quindi un tema comune, insomma. Francesco, prego. A questo proposito, volevo sapere, quando avete girato in Italia con la famiglia di Eva, chiaramente ci sono delle scene in cui siete a casa del padre, poi le scene con la madre, e come i genitori, come hanno reagito a questa imbassione, tra virgolette, dello spazio privato familiare? Allora, siamo andati prima, io e Pia, durante l'estate, per un qualche giorno, ovviamente, insomma, abbiamo avvisato, abbiamo chiesto a Eva di intercedere, di chiedere se fosse ok, ci hanno ospitato da loro, abbiamo girato qualcosa lì, abbiamo, come dire, conosciuto la famiglia, di nuovo, per far capire che non eravamo, insomma, personaggi di strane intenzioni, e poi siamo tornate ad ottobre con il cameraman e con Marcus, insomma, con il sound recordist. Loro ci hanno, devo dire, allora, c'era senz'altro una sorta di diffidenza all'inizio, non dal papà di Eva, devo dire, piuttosto dalla famiglia, dalla parte della step mom, ma perché, insomma, quando ci sono dei ragazzini di mezzo, insomma, non sapeva bene che cosa, secondo me non sapeva bene che cosa fare, non sapeva bene se fidarsi o meno, ecco, poi noi siamo rimasti una settimana e abbiamo girato tranquillamente, ci hanno lasciato, ci hanno ospitato, abbiamo mangiato assieme, insomma, è diventata una cosa, un'esperienza anche lì, condivisa, per quanto riguardato noi. non abbiamo coinvolto la famiglia in tante scene, perché ovviamente non, come dire, il punto non era tanto quello, sono bastati davvero pochi elementi per, come dire, delineare un'atmosfera, secondo me. Bene, io chiedo per un'ultima volta se c'è ancora qualche domanda, stavolta no, quindi niente, direi che abbiamo sviscerato un po' di retroscena del film, di come l'avete pensato, creato, di come appunto, di come questa immagine così particolare è poi diventata un film e quindi un'altra cosa ancora rispetto a quello che già Eva è per un giaffolto pubblico e è stato, credo, molto interessante, spero, per tutto il pubblico che è rimasto fino ad ora ormai piuttosto tarda e anzitutto ringrazio te, Giorgia, anche tu stai facendo le ore piccole per noi in questa... Non succede tanto spesso, quindi... Ma poi capisco che è un po' strano, tu non ci vedi, noi vediamo te, invece molto bene, molto grande e niente, quindi grazie ancora. Lo schermo, per favore, voi me la mandate, grazie. Sì, d'accordo, abbiamo... Se non è un problema per te, noi domani poi pubblicheremo, domani o dopodomani, pubblicheremo la registrazione dello Skype sul nostro canale YouTube del Beltrade. È un problema? Ok, no, no. Sei fotogenica, no, assolutamente non è per l'immagine, ma insomma spero di non aver detto cazzate. Non ci pare. Ok. Va bene, dai, grazie allora. E buonanotte, e buona... Ah, non ti ho fatto la domanda di rito, se stai già pensando a un qualche prossimo film, in quel caso poi ti farei gli auguri, ovviamente. Sì, sì, più di uno. Ottimo, allora... Si può già rivelare il soggetto? No, ok, va bene. Allora, buon lavoro, e magari una volta o l'altra ci vediamo qua direttamente in persona. Grazie, buonanotte. Grazie ancora, buonanotte. Ciao. Ciao.